Giovedì 19 settembre, buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, non è propriamente un buongiorno per tanti di noi, soprattutto qui in Romagna, ma un abbraccio va esteso a tutti coloro i quali stanno rivivendo gli incubi del passato. Qui piove incessantemente da tre giorni, fiumi in piena, situazioni di grande disagio, situazioni anche non solo di disagio ma di sconforto. Quindi un abbraccio, il primo pensiero va a tutte quante quelle persone, quelle famiglie che stanno nuovamente vivendo l'incubo delle esondazioni dei fiumi. Un grande abbraccio. Veniamo al contenuto di quest'oggi perché lo voglio sviluppare diciamo dialogando con voi su quelle che potrebbero essere le scelte di Tiago Motta in vista della sfida contro il Napoli. Siamo all'antivigilia, si avvicina la sfida di sabato ore 18 Allianz Stadium Juventus-Napoli, una sfida dalla quale io sono veramente curioso di capire come la Juventus ne uscirà. La speranza ovviamente all'auspicio è quello di vedere una Juventus fortificata nell'autostima ma non vi nego che il Napoli guidato da Antonio Conte che viene se non sbaglio da tre vittorie consecutive e soprattutto rinfrancato proprio nell'autostima dalla cura di Antonio Conte, candidata ovviamente alla lotta per lo scudetto insieme alla corazzata Inter perché anche sull'Inter arrivo un piccolo trapasso glielo facciamo in merito alla sfida di Champions di ieri. Dicevo sono curioso di vedere la Juve come ne verrà fuori perché indubbiamente questa sfida ci potrà dire tanto e soprattutto sono curioso di capire, di vedere come Tiago Motta intenderà affrontare la sfida contro il Napoli. Non tanto in termini di disposizione tattica perché non mi aspetto cose eclatanti o particolarmente diverse da quante da quanto visto in queste giornate ma mi aspetto che ci possano essere dei colpi di scena o comunque delle variazioni nella formazione. Uno perché stanno giocando soprattutto dietro sempre gli stessi Vlachovic ovviamente che non ha un'alternativa vera e propria le sta giocando tutte e quindi sono curioso di capire e di vedere come Tiago Motta vorrà affrontare soprattutto con la propria mediana la sfida ai partenopei. Dietro abbiamo l'incognita determinata dal piccolo contrattempo corso a Capitan Gatti, bello chiamarlo Capitan Gatti perché oggi a tutti gli effetti è capitano di questa Juventus, prime cinque partite ufficiali, fascia di capitano al braccio direi che ad oggi potremmo definirlo Capitan Gatti. Curioso sarà vedere nel momento in cui eventualmente giocherà in contemporanea con Danilo se la fascia si ritornerà sul braccio di Danilo oppure se Tiago Motta avrà deciso che i galloni di capitano spettano a Federico Gatti. Ma per quanto riguarda il giocatore italiano ha subito una lieve distorsione alla caviglia nel corso della sfida di Champions contro il PSV in dove per cui la sua presenza resta in dubbio contro il Napoli. Non è un infortunio di grande entità ma avendo le giocate tutte non essendo al 100% della condizione non è da escludere che Tiago Motta possa optare per un mini turnover nei centrali di difesa. A quel punto sarà Danilo a prenderne il posto in affiancamento a Gleason Bremer, ci sarà lo spostamento di Calulu centrale con l'utilizzo di Danilo o magari Savona sulla fascia destra di difesa? Lo vedremo. Cercheremo di capirlo, di studiare in questi ultimi due allenamenti che si terranno prima della sfida di sabato ma intanto quello che mi incuriosisce è capire come Tiago Motta vorrà affrontare il centrocampo napoletano perché la partita di Weston McKennie che io come ho avuto modo di dire e di risottolineare e non mi vergogno assolutamente di risottolinearlo avevo definito sapendo della sua titolarità contro il PS Wendhoven che mi faceva impazzire. Cioè io impazzivo l'idea di pensare di avere nel centrocampo titolare Weston McKennie che fino a qualche settimana prima era dato in uscita era un rivoltoso non avendo accettato tra virgolette il trasferimento all'Aston Villa avendo rifiutato tutte le possibili uscite avendo costretto la Juve a cambiare un po' le strategie di mercato ecco vederlo titolare io impazzivo poi lui bravissimo a smentire il mio impazzimento e soprattutto a farlo in modo migliore perché con una prestazione altamente positiva condita oltretutto da un gol importante si è guadagnato sicuramente dei galloni e soprattutto delle delle posizioni nelle gerarchie dei centrocampisti a disposizione di Tiago Motta e allora sono curioso di capire se Tiago continuerà avrà questa linea di continuità impiegando Weston McKennie io credo in affiancamento all'unico sicuro titolare che le ha giocate tutte e che secondo me in questo momento però è considerato forse l'elemento di maggior affidabilità conoscendo l'ambiente conoscendo i compagni avendo offerto prestazioni confortanti nemmeno parenti con quelle offerte la passata stagione parlo ovviamente di Manu e Locatelli quindi credo che Locatelli sia l'unico punto certo della mediana bianconera che scenderà in campo contro il Napoli lo stesso Theon Cup Miners che è arrivato a disputare due partite consecutive da 90 minuti ma avendo saltato una parte della preparazione quantomeno in gruppo essendosi allenato in disparte da solo ricorderete quei tre certificati medici che aveva inviato all'Atalanta che ovviamente lo escludevano dalle sedute di gruppo ovviamente ci danno la la quadra di un giocatore che sta sicuramente in buone condizioni ma che ancora probabilmente deve raggiungere il top della forma e allora avendo giocato due le ultime due partite da 90 minuti chissà se a Zic che era dato già come possibile titolare e poi partecipante a gara in corso nella sfida contro l'Empoli e invece nulla contro l'Empoli nulla contro il PS Windhoven non possa essere la sorpresa di questa giornata di Tiago Motta che ad oggi ci ha riservato spesso e volentieri in tutte le formazioni che lui ha fatto qualche sorpresa qualche mancata conferma non per demeriti ma per lanciare magari chi in quel momento stava meglio o si era allenato bene in settimana perché se c'è un passaggio secondo me importante da sottolineare e che va in assoluta contrapposizione non solo con recente passato ma un po' in generale come siamo abituati a vedere è proprio il Tiago Motta gestore del gruppo perché ha dimostrato che sa dare le giuste opportunità a chiunque qualora questo ragazzo questo giocatore si sia allenato bene in settimana e abbia dimostrato di poter meritare una maglia di titolare quindi chissà che a Zic non possa essere un'alternativa magari nel sottopunta nel giocatore alle spalle della punta di Dujan Vlahovic oppure se potrà questa volta davvero subentrare a gara in corsa fermo restando che Kupemainers potrebbe diciamo sempre il condizionale perché ad oggi ancora indicazioni precise e definite non ce ne sono osservare un turno di riposo va da sé che come dicevo prima Locatelli a mio parere in questo momento è probabilmente l'unico punto fermo della mediana del 4-2-3-1 e chi giocherà di fianco Locatelli? Oggi dire dire Weston McKennie mi sembrerebbe la cosa più logica più giusta perché McKennie ha fatto una prestazione importante contro il PS Weindhoven ribadisco e quindi perché andare a cambiare? Al tempo stesso c'è un giocatore che ben ha impressionato sia quando è entrato anche se la partita era già indirizzata che ben aveva figurato alla prima contro il Como salvo poi subire un infortunio che l'ha tenuto fuori e quindi facendogli perdere chiaramente posizioni nelle gerarchie che è Kefren Turan. Kefren Turan potrebbe essere un giocatore che potrebbe affiancare Locatelli. Al tempo stesso mi domando perché cambiare oggi McKennie dopo che ha effettuato quella prestazione? Tiago Motta li ha sott'occhio tutti i giorni, deve gestire le forze non soltanto fisiche ma anche quelle mentali e sicuramente potrebbe riservarci delle sorprese. Credo e qui potrei essere smentito ma mi sbilancio nel dirvi che sicuramente tra Kefren Turan, McKennie e Douglas Lewis oggi quello che ha meno probabilità di partire dal primo minuto nel 11 titolare contro Napoli sia proprio il brasiliano ex Aston Villa che pure non dimentichiamoci nella passata stagione è andato in doppia cifra di gol, in doppia cifra di assist evidentemente è un giocatore che forse ha bisogno di tempo per carburare probabilmente qui ha anche bisogno di tempo per capire bene il calcio italiano ma non ci sono dubbi che sia un giocatore che differentemente a quanto visto ad esempio da Arthur Melo che il paragone è stato fatto qualche volta l'ho letto non aveva questi numeri in fatto di assist e in fatto di marcature però ad oggi personalmente lo vedo indietro nelle gerarchie. Ditemi come la pensate voi per chi profendete nella titolarità probabilmente io dico a fianco Locatelli ma ditemi la vostra qualora riteneste che anche Locatelli possa essere messo in discussione per la sfida contro il Napoli. Ci sentiamo presto come sempre fino alla fine. Ciao a tutti